buongiorno questo lunedì dell'ottava di pasqua ascolteremo il vangelo tratto da matteo capitolo 28 versetti 8 15 è la seconda parte del racconto della visita delle donne al sepolcro e dell'incontro che loro fanno prima con l'angelo e poi con il risorto stesso innanzitutto mi piace sottolineare il fatto che l'angelo saluta delle queste donne usando lo stesso verbo che luca usa per indicare il saluto dell'angelo a maria cairete cioè rallegratevi entrate nella gioia di dio quella gioia che è un dono non ricercato ma accolto e dato in maniera gratuita dalla misericordia dalla bontà dalla grazia di dio ecco anche l'esperienza del risorto è un dono gratuito da accogliere ma mi piace anche sottolineare il duplice atteggiamento che matteo ci presenta da una parte le donne e dall'altra i capi dei sacerdoti questo duplice atteggiamento davanti all'evento della risurrezione le donne si lasciano scuotere da questo annuncio di gioia da questa novità inaspettata inattesa e impensabile e si mettono in cammino corrono addirittura si lasciano coinvolgere e disturbare da questa novità di vita e vanno corrono dai discepoli per portare questo annuncio e in questa corsa incontrano gesù perché proprio si sono lasciate disturbare l'altro atteggiamento quello dei capi dei sacerdoti loro invece davanti all'annuncio di questo fatto che gli portano i soldati cioè che la tomba è vuota hanno paura di essere disturbati dalla novità di dio e per vivere nella loro quiete si atteggiano come persone che comprano che corrompono per piegare la realtà ai propri comodi alla propria visione di vita può succedere anche a noi di non accogliere un annuncio che cambia la nostra vita che ci porta ad assumere altre prospettive come magari è proprio l'annuncio della resurrezione vogliamo stare fermi anzi e per non farci coinvolgere e non essere disturbati anche noi cerchiamo di comprare gli altri di comprare le relazioni di far sì che tutto rimanga come era che il signore ci preservi da questo atteggiamento dei capi dei sacerdoti ci preservi da questa chiusura e guarda caso purtroppo sempre segnata dal denaro come all'inizio della passione è segnato dal denaro la decisione di vendere Gesù ci preservi da questo atteggiamento per poter partecipare invece come le donne alla gioia della resurrezione grazie 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 grazie